Quali sono le novità che emergono da questo rapporto sulla conoscenza? Un'altra grande novità è proprio il primo rapporto sulla conoscenza, un altro bel segnale dell'Istat verso l'approdo della ricerca, un prodotto integrato sulle diverse dimensioni della conoscenza, quindi la creazione, la trasmissione e l'uso della conoscenza delle persone e delle imprese. Quindi un bel tema in cui diamo un quadro largo in cui emergono alcuni storici ritardi ma anche miglioramenti importanti specialmente negli ultimi anni e quindi punti di forza e priorità ben identificate.